Non sai quanto le piace che io le dia consigli. Tu a Miranda? Sì, beh, in realtà più che darle consigli le aiuto a inventare piccole cattiverie. Immagino quanto saranno piccole queste cattiverie. E immagini anche contro chi sono? Contro Luna? Perché non la smetti con Luna? Dovresti dedicarti a cose più interessanti, amore. Non credi? Guarda che quello che faccio è impegnativo, non è semplice, bisogna immaginare, pensare ai dettagli. Perché invece di perdere tempo con queste sciocchezze non ti dedichi a qualcosa che sia più produttivo, che ti faccia bene? A questo proposito, amore, ho una grande sorpresa per te. Oh, sei la migliore mamma del mondo, grazie. Lo so, lo so. Di number one. Of course. I love you, mamma. I love you too. A letto che è tardi. Oh, sì. Vado. Che bella che è. So che non dovrei concederle tutto, ma è più forte di me, è così bella, così speciale. Non so metterle limiti, Rita. 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 Rita, se vieni a casa mia soltanto a prendere il caffè e non ascolti una parola di quello che dico, è meglio che te ne vai? Sono in un momento di confusione. Sto cercando di ricordare, di ricordare. Perché io dovevo, dovevo punire qualcuno, ma non riesco proprio a ricordare chi. Non so che mi prende. Devo pensarci un attimo, perché sono sicura che mi verrà in mente. Vediamo. Chi è allora? Lo so, lo so. Adesso mi ricordo. Devo andare a fare il mio dovere, perciò mi prendo il permesso di andarmene via. Perché, beh, il dovere mi chiama, cara Rita. Prego, prego, vai pure, vai pure. Mi ha chiamato Rita, mi ha chiamato Rita. Sta davvero male. Sarà il caffè. Ti stavo cercando. Cercava me? Sì. Pensavi forse di poterla passare liscia dopo il disastro che hai combinato in cucina? No, ho messo a posto tutto. Oh, ma questo non è sufficiente. Qui gli errori si pagano e la legge è uguale per tutti. Tanto per gli alunni quanto per i dipendenti. E intende detrarre i piatti rotti dal mio stipendio? Oh, no, farò di meglio, mia cara. Vedi, in realtà ho due possibilità affinché non si ripeta mai più quello che è successo. Possibilità uno, ti licenzio. No, 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 per favore, ho bisogno di lavorare. Eh, beh, possibilità due. Siccome i compiti che ti abbiamo assegnato vengono svolti in un modo che lascia molto a desiderare, ho pensato di aumentare la quantità dei tuoi incarichi. In questo modo sarai più sveglia, molto più reattiva, no? Di che tipo di incarichi sta parlando? Oh, sorpresa, sorpresa. Lo scoprirai presto. Intanto sta tranquilla e preparati, sai, perché dovrai passare tutta la notte in piedi. Permesso? Ah, Guglielmo. Sì. Guglielmo, buonanotte. Buonanotte. Dorma bene, su un materasso comodo e faccia sogni d'oro. Mi piace questo modo di dire, fare sogni d'oro. Se mi sta distruggendo una mano. Scusi, allora... Allora, arrivederci. Mi scusi, mi lasci passare. Insomma, si tolga. Tesoro, figlia mia, ti ho cercato tutto il giorno. Dov'eri? Qui, al lavoro. Stai bene? Sì, tutto bene. Luna, ti conosco, hai una faccia. Che è successo? Niente, papà, sono stanca. Stai per piangere? No, no. Bene, andiamo, adesso va un po' a riposare. Vai. Ci voglio bene, papà. Anche io. Dai, dormi bene. Ciao. E così anche Luna è un problema risolto. Molto bene, tesoro. Un piano veramente ottimo. Geniale. Domani stesso le dichiariamo guerra. Amore, se andrà tutto bene, ce ne libereremo per sempre. Vedrai, sarà molto facile. Io lo spero. Così le passerà la voglia di starmi tra i piedi. Alle idee di tua figlia. Ovvio. E al tuo papà, che non si arrende mai. Ok. Luna. Alessio, come mai svegliò a quest'ora? Stavo per andare a letto e tu... Tu, Pitturi, non sei la cuoca? Sì. Ma ci sono stati dei problemi e Rita mi ha dato altri incarichi. Sì. Questa scuola ha le sue regole, no? Così sembra. Bene. Che fa? Come che faccio? Ti do una mano. In un'ora finiamo e andiamo a dormire. Domani ci si sveglia presto. Mi scusi, ma assolutamente no. Ve lo chiedo per cortesia. Non voglio problemi. Ascoltami, signorina. Smettila di darmi ordini. Altrimenti dirò alla signora Rita che sta ignorando completamente la mia autorità. Ti manderebbe a pitturare tutta la facciata della scuola. Terribile. E poi, secondo me, non sa pitturare. Sì, vedo che tu sei un'esperta. Questo è impressionismo, no? Faccio quello che posso. E poi, la sua fidanzata non ne sarebbe molto felice. Renata vive fuori da questa scuola e quello che succede qui dentro non la riguarda, perciò... Mi scusi. Mi scusi. Ah, no. Le ho chiesto scusa. Le hai riempito di vernice. Chi ha voluto incastrarmi? Chi è stato allora? Sei stato tu, no? Sei stato tu, sì, sei stato tu. No, non sono stato io, no. Sei stato tu, sono sicuro, sono sicuro che sei stato tu. Aspetta, andiamo, che prove hai? Non ho nessuna prova, ma farò di tutto per dimostrarlo. Clara! Mi hai spaventata. Scusa, mi dispiace. Volevo ringraziarti per avermi coperto. Bene. E poi, ti ho portato questo. Ah, grazie. Purtroppo non ne ho trovato uno bello come te. E volevo chiederti un'altra cosa. Che mi volevi chiedere? Volevo chiederti... Se tu... Se tu volessi... Che cosa state facendo voi due qua? Ma che fai? Non ti hanno insegnato a bussare prima di entrare? Che fai qui? Vattene. No, prima devo chiederti una cosa. Mi hanno detto che volevi guardarmi in faccia ed eccomi, che c'è? Io ora non voglio dirti niente, perciò vattene. No, non me ne vado finché non mi dici che problema hai con me, va bene? Ah, davvero? Prima mandi il tuo amico Ulisse e ora vieni tu? Ho mandato Ulisse, io non ho mandato nessuno, quindi... Non mentire, non è un comportamento da uomo. È questo che pensi di me? Che non sono un uomo? Quello che penso di te è solo un mio problema. Adesso vattene. No, non me ne vado finché non avrò una risposta. Va bene, rimani pure qui, me ne vado io. Che cosa avete? Perché litigate sempre? Perché litighiamo sempre? Non lo so, non ne ho la minima idea. È lei, è lei quella che se ne va sempre, non mi permette mai di parlare. Giuro che non ho mai capito perché si comporta così. In questo istituto si viene solo per imparare. D'accordo, però... Silenzio! Va bene. In questo istituto si viene per arricchirsi di scienza, coscienza e doveri. Il regolamento va rispettato per una convivenza ordinata e pacifica. Ma io ho una cosa da chiederle. Anche io. Ah, bene, avete qualcosa da chiedere, bravi. Chiedi tu, chiedo io. Chiedo io. Lui e io, per esempio, possiamo essere amici. Amici? Amici? Che tenera, che carina. Ascolta, quello che tu mi dici l'ho sentito altre volte, almeno 283.000 volte, mia cara. E da chi? Voi non volete essere amici, voi volete essere molto amici. Ma questo qui dentro non succederà mai. Avanti! Non volevamo fare niente di male. Io so perfettamente che cosa voi due eravate sul punto di fare. Ma sapete una cosa? La direttrice sarà informata di questo e sicuramente prenderà provvedimenti al riguardo. Ma perché? Perché se adesso non interveniamo con la massima severità, ce ne saranno almeno 100 dopo di voi, altri 100 innamoratini. E questo sarebbe il principio della fine. E domani ci sarà la gita allo zoo della città. Ah, ma che bello! Anche io sono stato allo zoo due anni fa. Non mi allontanavo dalla gabbia delle scimmietti. Sa quella scimmia piccolina senza neanche un pelo, quella che sbatte le ciglia in continuazione? Sì! Che belle che sono le scimmiette, eh? Lei accompagnerà i ragazzi. Come saprà, suppongo, questa è una grande responsabilità. Sì, ma sarò solo? No, signore. Ah! In queste situazioni c'è sempre Rita per controllare i ragazzi. Si sieda. Punto numero uno. Non permetta che nessun allievo si allontani. Scusi? Sì, che stava... Non permetta che nessun allievo si allontani dal gruppo. Lasci stare il libro di latino. Punto numero due. Non permetta che qualche straneo si avvicini ai ragazzi. Punto numero tre. I ragazzi possono mangiare solo ed esclusivamente quello che hanno nello zaino. Punto numero quattro. I ragazzi non devono sporgere le braccia o la testa dei finestrini del pullman. Ha capito? Tutto. Permesso? Prego. È molto importante. Allora? Ho appena visto una cosa terribile. Dimmi, Rita. Clara e Geronimo. Che stavano facendo? Lui stava regalando un fiore a lei. Ma questo è gravissimo. Sì. Ma lei l'ha accettato? Sfortunatamente sì. Oh, che disastro. È una catastrofe. No, no, scusatemi, ma bisogna prendere provvedimenti. Ma io la penso esattamente come Guglielmo. Per fortuna sono arrivata in tempo e li ho colti in flagrante. Immaginate se... Se io fossi arrivata solo qualche secondo più tardi. È tremendo. 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 Erano sul punto di... Sul punto di... Sul punto di... Sul punto di che? Sul punto di diventare fidanzati. Fidanzati. Che? Non capisco. Fidanzati, fidanzati. 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 Noi non siamo quasi fratelli. Non sono niente per te e ne voglio essere. Quando mi spiegherai che cosa ho fatto per meritare che mi tratti così male? Perché non la smetti di infastidirmi? Fa finta che non esisto. Ragazzi, vi stavo cercando. Chi è c'è? Uscite dal collegio. Ecco che c'è. Noi due usciamo dal collegio. Di che parli? Ci sono i vostri genitori. Vi fanno uscire. Ciao. Toto. Ti eri allontanato? Sì. Anche se è impossibile allontanarsi dai pensieri. Che posso fare per te? Perché hai una faccia? Mi succede quello che succede a te. Quello che succede a me? Anche io ho un amore impossibile. E fa così male che sarei capace di qualunque cosa. Ho pensato persino di andare in Europa per seguirla. Di lasciare tutto. In Europa? Andresti in Europa per una ragazza? L'unica cosa che voglio adesso è starle vicino. Alessio. Questo è per ringraziarla di avermi dato una mano a tinteggiare ieri. E anche per chiederle scusa per la pennellata che le ho dato in faccia. Bene, grazie mille. E comunque... Mi sono abituato a essere trattato così bene. Ciao, amore mio. Buongiorno. Come hai dormito? Bene? Bene. Che fai qui così presto? E... Devo dirti una cosa. Ricordi che avevo detto di avere una sorpresa? Bene. A partire da oggi sono la nuova insegnante privata di Miranda. Ta-da! Che bello! Complimenti! Beh, grazie, ma non è questo l'importante. Ah, no? Verrò a vivere qui, con te. Come qui? Sì! Condivido la stanza con la cuoca. Dario è nata le chiavi della stanza. Deve sistemarsi. Saremo compagni a distanza, tesoro. Non è meraviglioso? Saremo compagni a distanza, tesoro. Che bello! Non lo quero deixar. Mis amigas dicen que non è per me. Che le gustan todas e me va a hacer sufrir. Però a mi non ti interessa lo che diga, con che mia vita cambiò, Da quel giorno in cui lo conosci E' stato un tempo molto lindato e per questo è così Credo, vanno, io, differente a me E anche parecchio che è un po' affermino Mi ha sempre sentito che sempre sta con me Sì, con me, sì Un amor de locos E io vuoi da poco a poco E non lo voglio dejar